Dopo l'avvistamento di circa un mese fa nei boschi di Trontano e a cui si riferiscono le immagini, l'orso torna a farsi vivo in ossola sulle alture di Masera, questa volta è successo tra le 9 e le 10 di ieri mattina. Ad avvistarlo sono stati tre cacciatori impegnati in una battuta al cinghiale. La zona è quella dei boschi che si estende tra l'alpe Travello, Fornale e Pescia. Ad accorgersi della presenza del predatore è stato uno dei cacciatori. Fornizialmente lo ha scambiato per un cinghiale, poi ha capito che invece si trattava dell'orso. L'incontro è avvenuto a circa 80 metri di distanza, uno spazio relativamente breve, ma la conferma della presenza dell'animale è arrivata quando il cacciatore ha inforcato il cannocchiale. A quel punto sì, la presenza dell'orso è diventata una certezza e nel frattempo anche un altro cacciatore del gruppo si è accorto della presenza dell'animale che, molto probabilmente disturbato dalla presenza dell'uomo, si è allontanato dirigendosi verso i boschi della Valle Vigezzo. Il fatto è stato segnalato alla polizia provinciale del Berbano Cusiossola, che però per avere la certezza attende di avere riscontri diretti, anche se precisano non abbiamo motivo di non credere di questo avvistamento.